Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Radio Radio By Night Roma Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi, tutto quello che puoi fare di notte a Roma By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino Niente, dormi, va By Night Roma, By Night Roma, voice of your night, musica for me night By Night Roma, By Night Roma, voice of your night, musica for me night This is the voice of your night, Radio Radio By Night Roma, 104 e 5 FM Let's begin, let's begin I tempi un po' sofisticati Non sembro affittabile Lo sai non parlo giapponese, no Non ho mai visto gli USA Ma vieni e scopri l'altra faccia della luna Quella che non ti sembra sicura Questo perché Lo troverai Ma vieni e scopri l'altra faccia della luna Esci e guarda l'altra faccia della luna Non sognare cerca l'altra faccia della luna Questo perché Ascoltatori di Radio Radio L'altra faccia della luna Lo troverai Oh, 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 oh Stasera qui, Francesco Ambrosini, alla chitarra Luca Balducci, di solito alle tassiere, ma stasera alla chitarra E per voi Gianluca Mirga alla voce Gianpaolo Mirka Bende Grazie a tutti Grazie, in chiusura di puntata Grazie a voi, complimenti Io sono innamorato della voce di quest'uomo